Passa da questa firma il presente e il futuro dell'Arezzo, Davide Moscardelli dopo aver raggiunto le 15 reti in Amaranto e vicino a superare il record di reti stagionali in carriera, ha firmato il rinnovo contrattuale con la società Amaranto, una firma posta davanti a decine di tifosi, un segnale alla piazza sull'Arezzo che verrà a prescindere dall'esito dei play-off. Già c'era un po' da tempo con una stretta di mano che per me e per il direttore vale molto di più, però era giusto formalizzarlo, quindi sono contento, siamo contenti. Il fatto di avere un gran gruppo, una grande squadra è una società importante dietro e poi certo l'ambiente ci mette del suo perché mi hanno accolto benissimo all'inizio, anche quando ho fatto un po' di fatica i gol non arrivavano, quindi sono veramente contento e orgoglioso, quindi è una cosa importante per me continuare con questa maglia per ripagare anche l'affetto che sto e stiamo ricevendo dai tifosi. Ecco, poi al di là dei gol c'è questo affetto proprio da parte dei tifosi che si sono molto affezionati a te, ci si sta creando un bellissimo legame che penso percepisci. Sì, assolutamente sì, ho detto prima anche dall'inizio mi hanno sostenuto perché vedevano quello che metto in campo che ho sempre fatto per tutta la mia carriera, quindi che mi ha portato ad arrivare anche in Serie A a 30 anni, quindi quella cosa non può mancare nelle mie prestazioni, poi a volte esce una buona partita, a volte meno, adesso sto vivendo un buon momento e spero che prosegui così perché adesso arriva lo sprint finale e il bello comincia adesso. Ha detto il direttore che ha voluto aspettare il quindicesimo gol per mettere questa firma. Eh sì, era stato detto così in tempi non sospetti, quindi sono uomo di parole, ho voluto aspettare e convinto di riuscire a arrivare a questo traguardo che però ancora voglio migliorare perché serve appunto questo sprint finale che ci può portare a fare il salto di qualità per fare un grande campionato. Quello di mettere sempre tutto in campo è la cosa principale, quello che percepisce la gente dove hanno visto in tutte le piazze dove sono stato, sono stato apprezzato soprattutto per quello, è una cosa che mi rende ancora più felice, è troppo facile applaudire per un bel gol ma quando fai un recupero o aiuti un compagno è quello che ti ha pagato più di tutto. Tre protezze consecutive in casa, parliamo anche di questi gesti tecnici, insomma stai deleziando in particolare il pubblico del comunale, tra i tre qual è quello che preferisci? Ma non lo so, forse per importanza quello con il Livorno e anche quell'altro servita alla vittoria, peccato per quel gol che abbiamo preso perché sennò poteva essere anche l'ultimo importante e quindi più quei due perché poi hanno portato al risultato pieno che è quello che conta. Con i secconi ma ci si può stare parecchio a parlare, diciamo secondo me alla fine dell'anno si bilanciano un po' le situazioni, sì magari abbiamo perso qualche punticino, non abbiamo guadagnato qualcuno che magari non meritavi, quindi ho detto più o meno si livellano, adesso non è ancora finita perché appunto lo sprint finale è quello che conta, queste ultime partite per prepararci bene, quindi adesso cancellare quello che si è stato fatto e puntare al massimo. Un rinnovo caldeggiato dal Presidente? Sì, sì, il Presidente è stata la situazione un po' più difficile perché il Presidente ovviamente ci teneva molto che rinnovasse prima, Davide diceva per scaramanzia non vorrei rinnovare perché poi a fine che non raggiungo l'obiettivo e allora dovevo stare in mezzo alle due campane però ho detto direttore rinnovo, quindi anche io che sono un po' scaramantico mi faceva piacere che rinnovasse con il quindicesimo gol, mi ho messo anche un altro così non si può mai sapere, è per scaramanzia, non si può mai sapere. È un segnale comunque per la piazza, oggi c'erano tanti tifosi, proprio per la ghezzo del futuro al di là del presente che comunque inizia a prendere che forma. Ma è giusto che la piazza merita questo, l'ho sempre detto e sono state sempre eccezionali sono contento che gli fa piacere, ho sempre detto che se ne è parlato poco ma la tifosità per me quest'anno o da quando sono io qua è sempre di un livello superiore a tutte le altre che ho incontrato, quindi mi fa molto piacere che fa piacere e sono contento che sono riuscito a fare una cosa che loro gradiscono. Con Davide parlando in questo periodo siamo veramente concentrati sul prossimo futuro, su quest'anno poi è sempre un tassello positivo per il futuro però noi abbiamo il diritto di concentrarci in tutte le energie possibili per quest'anno. Vabbè ha stupito un po' tutti, forse a me un po' meno però un po' mai stupito anche a me io ero convinto del valore del giocatore e di quanto ci potesse aiutare in quest'anno poi probabilmente anche la fattura dei gol è stata elevata fino ad adesso e mi auguro che continui su questa onda e quindi questo ha migliorato e ha semplificato anche tutti i discorsi di rinnovo. Il primo passo l'ho fatto io, lui lo sa che poi sono abbastanza insistente però io devo essere sincero, Davide non ho mai avuto un problema con Davide, abbiamo sempre trovato molta sintonia, ogni volta che ho parlato non ho mai dovuto ripetere le cose quindi secondo me il merito è che lui ha grande volontà e quando trovi una persona che ha grande volontà è molto più semplice, secondo me è più merito suo che mio sinceramente. Ma l'uguale col mister da un po' che ci parlo e ci parliamo, come ho detto adesso siamo concentrati su quest'anno, sull'obiettivo, poi dopo tutti i miei step li faccio in caso di entrambi le categorie, sono più pronto per la categoria superiore, un po' meno per l'altro perché sono ottimista. Il direttore sportivo ha l'obbligo di pensare di andare avanti l'anno prossimo e deve fare il meglio, è il mio modo di lavorare e di essere, poi dopo nel calcio è tutto veloce, è tutto particolare, però io penso, sogno e poi penso sempre di cercare di migliorare e di mettere dei tasselli, però per primo sogno, ma il playoff è un campionato a parte, io l'ho fatti tanti da calciatore, play out e play off quindi so benissimo che poi si resetta tutto. Io sono ottimista di natura, quindi preferisco portare l'ottimismo, però pensandoci e cercando di poi stare attenti a tutti i particolari, a tutti i spigoli che potremmo trovare, però più che essere preoccupato, tendo di essere più ottimista che preoccupato, però nello stesso tempo sto molto attento, stiamo tutti molto attenti. Tra l'altro quest'anno è proprio un campionato a parte perché chi arriva in fondo, doveva giocare diverse partite? Sì, è inutile ormai parlare di questi playoff, ci sono, li facciamo. Noi se non sbaglio, siamo matematicamente nei playoff, quindi su questo è già un mattone. Poi siamo contenti, ma come ho sempre detto non ci accontentiamo.